Prendendo un normale accendino, con la scritta solo in una parte, basta schiocare e passare l'accendino dentro le mani tre volte in questo modo, uno, due, tre parti, che già la scritta è scomparso, guarda, la scritta non c'è né qua né qua, io la scritta la posso, l'accendino la posso anche reinserire che la scritta ri appare, allora questo si è un bel giochino che si fa con un classico accendino che mi è stato dato con la scritta big da una parte e anche dall'altra, io prendo e guarda, mostro all'ospettatore che l'accendino ha la scritta big, sia da una parte che dall'altra e ti chiedo per favore di sfregare, sfrega, ecco qua, lui sfrega, ma come per magia, la scritta è scomparsa solo da una parte, come puoi vedere la scritta è scomparsa solo da una parte, allora, ora c'è solo una parte, sfrega, sfrega? e la scritta è cambiata anche dall'altra, al prossimo videoblog by Mr. Mago Maghetto mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace